che questi video possano servire allora ieri ho registrato un video sull'ellisse dove ho spiegato anche velocemente cosa vuol dire trovare un luogo geometrico e qual è il metodo con cui si dimostra luogo geometrico parabola ellisse eccetera eccetera dimostrazioni ovviamente diverse ma si fondano tutte sullo stesso concetto di mettere nero su bianco la condizione dell'essere luogo geometrico oggi vi faccio uno sull'iperbole poi nei prossimi giorni approfondisco sia il tema iperbole ellisse facendo magari l'ellisse non canonica cioè quella che non ha i fuochi messi in maniera simmetrica che si chiama traslata io quest'estate mi fermerei solo a registrare dei video su ellisse perbole solo traslate non ruotate a meno l'iperbole ruotata riferita ai propri edassi però la cui equazione viene data senza dimostrazione perché comunque vabbè io questi video li faccio in funzione anche del mio lavoro l'anno prossimo non avrò una quarta liceo l'ho spiegato già nell'altro video dove appunto si avrei fatto le trasformazioni comprese le rotazioni le rotazioni hanno bisogno della trigonometria quindi si fanno di solito di solito non è obbligatorio qualcuno anticipa la trigonometria anche in terza io le faccio invece in quarta l'anno prossimo la quarta non l'avrò perché l'ho persa tra virgolette questa classe qui al posto di quella di quella quarta che avrei avuto futura ho una nuova terza quindi ne ho due quindi io quest'estate ho deciso adesso questo mese da quest'estate quest'estate questi ultimi venti giorni di agosto di di non inizio scuola perché comunque in qualche maniera ho sempre lavorato registrerò dei video che servono alle mie classi bene o male avrò una prima una seconda itis e video di prima seconda ne ho fatti abbastanza avrò una quinta informatica e anche lì di video ne ho fatti abbastanza appunto mi approfondisco quelli sulla terza liceo poi che altre classi ho prima seconda ha una terza o una terza itis la mia terza chimico però di terza itis di video ne ho fatti riferiti a loro no vabbè sì forse magari dovrò fare qualcosa più che altro per loro ok allora bando alle quindi mi raccomando mettete in live se possibile al mio canale se non vi è troppo di disturbo allora innanzitutto ripeto il concetto che vi ho fatto che ho registrato già nel video dell'ellisse un punto appartiene a un certo luogo i luoghi li potete inventare anche voi se solo se verifica le caratteristiche le caratteristiche che vi siete prefissati per quel luogo cioè io il luogo lo posso inventare anche io di sana pianta e dire per me il luogo geometrico che mi interessa sono tutti i punti p la cui distanza dall'origine degli assi è al quadrato è otto volte la distanza dal punto di coordinate due due questo è un luogo me lo sono inventato io se io traduco quello che ho detto parole in prima di tutto magari in una forma meno parole più scritta per esempio quello che vi ho detto io la distanza dall'origine al quadrato è uguale a otto volte la distanza che p ha dal punto a dal punto per esempio d per esempio questo qui magari otto volte la distanza che il punto p ha verso il punto d la lunghezza del semento pd magari al quadrato anche quella o il cubo questo è un luogo geometrico me lo sono inventato io lecito questo è il modo di allora prima scrivo quello poi tradurrò con le formule della geometria analitica per esempio la distanza tra due punti come si ottiene mi verrà fuori il legame che devono avere le x e le y del punto per far parte del luogo che mi sono inventata per quanto riguardo l'iperbole la definizione di iperbole è questa ovviamente le definizioni di iperbole lisse parabola vabbè anche circonferenza anche se più lo quelle ve le dovete studiare a memoria quella che si chiama iperbole è il luogo dei punti tali che verificano questa cosa la distanza da un punto fisso detto fuoco 1 meno la distanza da un altro punto fisso detto fuoco 2 deve essere una costante siccome una differenza una differenza potrebbe anche venire negativa si mette il valore assoluto la il valore assoluto della differenza allora sui libri cosa si fa si va a dimostrare un iperbole i cui fuochi come nel caso delle lisse sono posizionati in punti particolari cioè in due punti entrambi appartenenti all'asse delle x ma non basta messi tutte e due in maniera simmetrica cioè il fuoco 1 può avere coordinate meno c 0 dove c è un valore positivo e l'f2 c 0 ok allora la forma delle lisse dovrebbe essere una cosa del genere questa è la forma delle lisse vabbè simmetrica adesso vabbè lo disegnate un po un po maluccio però non sono parabole queste due curve non sono parabole hanno degli assintoti che poi magari non so se in questo video ma in un altro cioè ci sono due rette una così e l'altra così a cui questa curva tende si avvicinano sempre di più si chiamano sintoti obliqui obliqui perché non sono né rette né orizzontali né verticali e la curva tende ad avvicinarsi a queste rette appunto ok allora come si fa a dimostrare l'equazione delle lisse sempre nella stessa maniera esplicitate quello che c'è scritto qua cioè in pratica la distanza lasciamo pure il valore assoluto tanto prima o poi dovremmo levarlo al quadrato p diventa la distanza di p da f1 diventa x più c chiuso alla seconda poi meno anzi più scusate la differenza delle y nel punto y meno 0 diventa alla seconda meno e questa è la distanza di p da f1 la distanza di p da f2 cambia semplicemente che x meno c qui cambia un più un meno più più y al quadrato tutto questo uguale a k ok allora tralasciamo un attimino il discorso del valore assoluto tanto poi eleveremo tutto il quadrato facciamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto per l'ellisse cioè uno dei due termini lo portiamo di là ed eleviamo il quadrato elevando il quadrato quindi questa radice rimane da sola elevato al quadrato va via la radice faccio addirittura i calcoli quindi 2 x c più c alla seconda più y al quadrato dall'altra parte cosa verrà è una somma di due termini quadrato del primo k alla seconda più il quadrato del secondo che rimane x alla seconda meno 2 x c e poi più y al quadrato e poi cosa rimane il quadrato del primo il quadrato del secondo e a a scusa scusate allora togliamo k e mettiamo 2 a quindi come avevamo fatto nell'ellisse 2 al quadrato diventa 4 a la seconda e quindi poi il doppio prodotto che diventerà questo e più perché questo portato di là diventa un più il doppio prodotto 2 a per la radice doppio prodotto diventa 4 a radice di x alla seconda meno 2 x c più c alla seconda più y alla seconda allora x alla seconda e x alla seconda vanno via cosa va via? va via allora qui mi sono dimenticata un più c alla seconda quando ho fatto il quadrato della radice x alla seconda e il doppio prodotto c alla seconda c alla seconda e c alla seconda vanno via y alla seconda e y alla seconda vanno via portato dalla stessa parte dividiamo tutto per 4 rimane x c perché rimarrebbe 2 x c più 2 x c sono 4 x c dividendo per 4 x con c meno 4 a alla seconda quindi a alla seconda dall'altra parte rimane a che moltiplica radice di tutto questo x 2 meno 2 x c più c alla seconda più y alla seconda e leviamo di nuovo tutto il quadrato cosa ritorna ad avere x alla seconda c alla seconda più alla quarta meno 2 x c meno 2 x c alla seconda e dall'altra parte levando la seconda questo diventa alla seconda per tutto questo alla seconda x alla seconda meno 2 alla seconda x c che va via con questo più a2 a2 c2 e più a2 y2 portato tutto dalla stessa parte diventa x alla seconda che moltiplica il c al quadrato meno a al quadrato che chiameremo b b alla seconda poi e queste sono le x alla seconda poi c'è un meno y alla seconda alla seconda e dalla parte destra mi rimarrà questo era un alla quarta eh quadrato del primo più il quadrato del secondo e il doppio prodotto allora dall'altra parte i termini senza un tubo di x e di y sono a2 c2 meno a4 raccogliendo un a alla seconda vi verrebbe c2 meno a2 allora questo c2 meno a2 lo chiamiamo b alla seconda ok quindi questo b alla seconda è il termine che usiamo siccome intanto c e a sono dei numeri c è il numero che mi dice dove ho fissato i fuochi le coordinate dei fuochi a è il famoso valore della della semicostante quindi b alla seconda è uguale alla differenza tra c2 e a2 o anzi se volete ricordatevi che c alla seconda sarà sempre uguale alla somma di a2 più b2 a differenza dell'ellisse dove invece c2 si ottiene facendo a2 meno b2 o b2 meno a2 a seconda di quale dei due è più grande quindi dividendo tutto per questo c2 meno a2 che chiamiamo b alla seconda cosa diventerà? x alla seconda dividendo tutto per questo termine c2 meno a2 se io divido va via rimane fratto a2 meno y2 se io divido per questo termine la 2 rimane va via e rimane la parentesi che abbiamo detto chiamiamo b alla seconda uguale a 1 e questa è l'equazione dell'iperbole con i fuochi sull'asse delle x che significato hanno a2? ma tra l'altro notate una cosa che c2 è sempre quindi notate vediamo se lo capite io in questo disegno ho fatto un errore la c è questo pezzo la ve lo dico subito la che significato ha se io pongo in questa equazione y uguale a 0 troverei dove la mia iperbole tocca l'asse delle x con y uguale a 0 questo va via e quindi verrebbe che l'iperbole tocca l'asse delle x nei punti che hanno ascissa x alla seconda uguale ad a quindi x uguale a più o meno a quindi questi qui sarebbero i due vertici allora siccome la c al quadrato ma la c al quadrato è uguale alla somma di due numeri ovviamente tutte e due positivi allora la c sicuramente è più grande di a la c al quadrato è più grande di a alla seconda perché è la alla seconda a cui gli aggiungete qualcosa quindi la c è sicuramente maggiore di a quindi questo disegno io ho sbagliato questo che il vertice va qua l'iperbole è fatta così e non come ve lo avevo disegnata cioè il valore di a è qui il fuoco è fuori ok quindi vi ridisegno un attimino anzi facciamo così cancelliamo che è meglio allora ma va bene a volte sbagliare per distrazione per così per per superficialità e poi accorgersi del proprio errore quando ci si ragiona meglio non è una cosa sbagliata questi sono i fuochi f1 f2 questo è il valore di c vi ricordo se c al quadrato è maggiore di a al quadrato anche c è maggiore di a ovviamente inteso come valore positivo e i vertici invece saranno più vicini all'origine perché questo è il valore di a e questo è il valore di c e quindi saranno ovviamente simmetrici voi avrete una cosa del genere ok questa è la vostra iperbole ok che non è non sono due rami di parabola perché vi ho detto su ogni iperbole la si può disegnare tracciando due rette che sono gli assintoti queste due rette hanno un'equazione del tipo y uguale più o meno b fratto a x e non sono due rette perpendicolari almeno generalmente non sono due rette perpendicolari a meno che b e a siano uguali e allora se b e a fossero uguali le due rette avrebbero equazione y uguale più o meno x sarebbero le due bisettrici una del primo e terzo quadrante l'altro del secondo e del quarto e allora sarebbero perpendicolari ma in generale non lo sono mettiamo che b sia 2 a sia 1 e le due rette saranno del tipo y uguale più o meno 2 x quindi y uguale a 2 x y uguale a meno 2 x non si tratta di avere due rette perpendicolari solo che una sarà passerà per il primo e terzo l'altra per il secondo e quarto questi sono gli assintoti cosa vuol dire che la vostra iperbole tende andando avanti all'infinito man mano che le x crescono la vostra iperbole tende ad assomigliare sempre di più ad avvicinarsi sempre di più a questa retta da un semiretta da una parte questa semiretta dall'altra e nell'altro nell'altro quadrante succede la stessa cosa però questo è il fuoco e questa è il punto d'incontro come vedete avevo tolto il valore assoluto però a un certo punto cosa è successo che io ho continuato a elevare al quadrato e quindi comunque che la differenza allora parliamoci chiaro la differenza io l'ho posto uguale a un numero positivo quindi ho ipotizzato che la distanza da f1 sia maggiore della distanza tra f2 se fosse il contrario io cosa avrei dovuto fare avrei dovuto fare la differenza cioè tradurre il valore assoluto uguale a un numero positivo vuol dire che deve essere o pf1 meno pf2 uguale a k oppure pf2 meno pf1 uguale a k cioè se questo è maggiore di questo è uguale a non so mettiamo che il mio k sia 3 allora se la distanza tra f1 è maggiore della distanza tra f2 il valore assoluto non ha ragione di esistere se invece fosse il contrario io dovrei fare il contrario dovrei cambiare mettere pf2 meno pf1 allora ma siccome a un certo punto cioè sarebbe quindi io dovrei svolgere un calcolo così come l'ho fatto prima o nell'altra o nell'altra maniera ma vi assicuro che in questa maniera qui anche se io portassi di là questo termine e poi dovessi elevare al quadrato e tutto quello che ho fatto darebbe origine sempre lo stesso tipo di equazione verrebbero le stesse cose chiaramente se io portassi di là questo verrebbe innanzitutto qui al quadrato verrebbe sempre più la verrebbe una sottrazione quindi questo verrebbe un meno verrebbe andrebbero via sempre tutti gli stessi termini a un certo oppure oppure porto di là questo lascio qui questo cambierebbe semplicemente che qua ci sarebbe un meno e qui ci sarebbe un più ma poi tutto il resto verrebbe uguale fidatevi viene la stessa cosa più più che altro vi vorrei fare invece vedere nel caso in cui l'f1 e l'f2 invece di essere sull'asse delle x fossero sull'asse delle y quindi i vostri fuochi invece di essere c0 meno c0 fossero 0c e 0 meno c avreste sempre la stessa definizione la differenza tra pf1 e pf2 deve essere uguale a una costante questa volta chiamate la b perché di solito per convenzione questi valori vengono chiamati a b c che che sono a una cosa mentre la nell'iperbole ha il significato l'iperbole con i fuochi sull'asse x la ha il significato delle coordinate dei vertici la b non avrebbe nessun significato fisico perché se noi immaginassimo l'intersezione con l'asse delle y dovremmo porre x uguale a 0 però verrebbe y seconda uguale a meno b alla seconda perché il meno lo faccio diventare un più questo lo faccio diventare un meno il b alla seconda lo porto sopra e verrebbe così quindi siccome la radice di meno b alla seconda non la posso b alla seconda è un numero positivo con il segno meno davanti è impossibile che un quadrato venga negativo quindi b i valori di b vi danno semplicemente dei valori che voi potete mettere sull'asse delle y però non hanno significato di intersezione come invece succede nelle nell'ellisse allora qui sarà tutto il contrario vi dico per convenzione si chiamano a b a le intersezioni con l'asse delle x le b l'eventuale intersezione con l'asse delle y e c i valori invece delle coordinate focali la cosa sarebbe questo oppure al contrario pf2 meno pf1 uguale a 2b perché la differenza è un valore assoluto quindi può essere la f1 meno la f2 o il viceversa ma nei calcoli verrebbe la stessa cosa pf1 sarebbe x meno 0 che è al quadrato più y meno c alla seconda meno anzi portiamolo addirittura di là 2b più la radice quadrata di x alla seconda più y questa volta più c al quadrato elevando al quadrato verrebbe x alla seconda più y alla seconda meno 2 yc più c alla seconda uguale 4b alla seconda più questo qui al quadrato è x2 più y2 più 2 yc e poi il doppio prodotto che diventa 4b che moltiplica tutto il solito x alla seconda più y alla seconda più 2 yc e più c alla seconda allora questo e questo vanno via questo e questo vanno via questo e questo vanno via dove le ho messi allora y alla seconda me lo sono anche l'altra volta me lo sono dimenticato il doppio il ho fatto il quadrato del primo il quadrato il doppio prodotto mi sono dimenticata il c alla seconda allora dalla stessa parte questa volta mi rimarrebbe meno 4 ma divido addirittura per 2 quindi rimane meno y divido addirittura per 4 quindi meno yc poi meno b alla seconda uguale a b che moltiplica voi avete rispetto prima avete la b al posto della in pratica y2 x2 più y2 più due volte yc e più c al quadrato eleviamo di nuovo tutto il quadrato e verrebbe x y2 c2 più b alla quarta più perché meno per meno fa più due volte yc b alla seconda e da questa parte b alla seconda x alla seconda più b alla seconda y alla seconda più 2b alla seconda yc che va via con questo e poi più b alla seconda c alla seconda portando i termini con le x e le y dalla stessa parte cosa succederebbe che verrebbe da questa parte l'y2 a cui potete raccogliere c2 meno b2 e il c2 meno b2 lo chiameremo a2 poi meno b2 y2 e da questa parte qui rimarrebbe un bel b2 c2 meno b4 raccogliendo il b2 viene come prima c2 meno b2 c2 meno b2 lo chiamiamo come prima al contrario abbiamo chiamato b la stessa differenza e come vedete nell'iperbole la c2 è sempre uguale ad a2 più b2 sempre mentre nell'ellisse c2 è la differenza questa dividiamo tutto per questo termine che verrà 1 e quindi dividendo tutto per a qui ho sbagliato b2 x2 allora dividendo tutto per lo stesso termine questo qui verrà y2 fratto b2 quindi vedete che sia nell'ellisse che nell'iperbole che siano i fuochi sull'asse x fuochi sull'asse y sotto l'y2 c'è sempre il b2 qui dividendo tutto sempre per lo stesso termine verrà x2 fratto il b2 va via rimane la parentesi che abbiamo chiamato a2 stesso discorso di prima sotto la x al quadrato ci sarà sempre a2 uguale a1 però per tenerla sempre nella stessa forma canonica di solito si cambiano i segni cioè si scrive x2 fratto a2 meno y2 fratto b2 uguale a meno 1 e questa è l'ellisse con i fuochi sull'asse delle y messi in forma in forma in maniera tale che siano simmetrici la b2 rappresenta le due intersezioni della vostra iperbole con l'asse in questa volta delle y non è una parabola ma vi ripeto questi due rami tendono ai due sintoti due sintoti sono sempre gli stessi e questa è l'equazione finale ok vi ho detto proprio tutto su queste cose iniziali adesso vi invito ripeto assi mi sono sballata a mettere il like sul mio canale vi saluto e alla prossima